Quattro Però tutti e tre non ce la faccio Noi siamo i nostri eroi e ti spieghiamo perché In un periodo storico Donastidio Hai accendo il cazzo di Cinque Noi siamo i nostri eroi e ti spieghiamo perché In un periodo storico In cui Scusa Sapevo Non stiamo indossando un camice bianco per fare una ricerca Non è possibile Vogliamo essere la prova evidente che la caritas merita attenzione Vogliamo essere la prova evidente che la causa merita attenzione Perché senza attenzione Ah ci sono riuscita Dai 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 Stai dormendo No lo devo concentrare Stai dormendo qua Ok Vogliamo essere la prova evidente che la causa merita attenzione E qui ci siamo La prima metà c'è In sostanza Wow è una fotografia di quello che sta succedendo Senza mediare e senza giudicare Marche E t'assciーン Noi 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 Grazie a tutti